Una strada lunga 2,6 km che si allontana dal nuovo laghetto di compensazione al lago di Peretola, dal centro abitato di San Mauro a Signa, che si inserisce meglio nel paesaggio e che mantiene il nuovo ponte sull'Arno, il ponte del Giglio. È stata presentata alla stampa la proposta progettuale della regione toscana per un tracciato alternativo alla bretellina Signa-Lastra-Signa. Si tratta al momento solo di uno studio, plano altimetrico, da sottoporre nei prossimi mesi a verifica di valutazione di impatto ambientale. Abbandonato definitivamente il progetto di tracciato originario, sul quale Toscana Aeroporti S.p.a. aveva proposto di spostare l'area naturalistica del lago di Peretola, la nuova proposta cambia strada. Il progetto complessivo costa 35 milioni di euro e l'inizio lavori è previsto nel 2022. Il nuovo progetto prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dello svincolo con Lastra-Signa lungo la FIPILI, per collegare sia la strada statale 67 Toscolo-Magnola, sia la superstrada FIPILI alla nuova arteria. La seconda rotatoria si trova presso il depuratore di San Colombano e collega la nuova arteria con la rete stradale esistente e prosegue correndo parallelamente al depuratore di San Colombano, lungo il confine nord del parco fluviare di Lastra-Signa. Un progetto da 35 milioni di euro che vede coinvolti il comune di Signa, Lastra e Firenze, la regione toscana, la città metropolitana di Firenze e Toscana Aeroporti. Rispetto al progetto che va a sostituire, vi è un risparmio di 50 milioni e addirittura una riduzione nei tempi di realizzazione da 6 a 4 anni. È un'opera che oltre a risolvere il problema di collegamento tra la FIPILI e la SR66, cosiddetta Pistoiese, può servire anche da circonvallazione per gli abitati di Lastra-Signa e di Signa, ma è un'opera fondamentale anche per quanto riguarda il decongestionamento di quel nodo a nord-ovest della Piana. Ecco perché si è creata anche una forte alleanza, un gioco di squadra tra la regione e i due comuni, ma anche con la partecipazione del comune di Firenze e della città metropolitana, che si sono resi disponibili anche ad una compartecipazione per quanto riguarda le risorse finalizzate alla sua realizzazione. In corrispondenza dell'Arno, il nuovo tracciato si sviluppa in un viadotto strallato per 800 metri e un'altezza rispetto al piano di campagna di 15 metri, superando prima l'Arno e poi le due linee ferroviarie. Degli 800 metri di viadotto, 300 sono di ponte vero e proprio e si presenta parallelo a Via dei Renai, per immettersi con una rotatoria su un nuovo ponte in fase di realizzazione in corrispondenza del fiume Bisenzio. Da questo punto il percorso prosegue lungo la strada esistente, Via dell'Arte della Paglia, di circonvallazione del comune di Signa e su quella che sarà a breve realizzata dal comune di Signa con fondi regionali a valle di via Amendola, fino alle due rotatorie all'altezza dell'indicatore nel comune di Campi Bisenzio. Si migliora i tempi di due anni di quello che era previsto la realizzazione del ponte del Giglio, questo credo sia una risposta importante, ci saranno degli incontri la prossima settimana fra il comune di Signa, Toscana Aeroporti e la regione Toscana per concludere quell'accordo e quegli impegni che avevamo preso giù in conferenza dei servizi a Roma.